150.000 euro a disposizione delle imprese veronesi per farle diventare 4.0 con la possibilità di investire in consulenza e digitalizzazione delle attività produttive e di puntare sulla formazione con contributi che copriranno il 50% della spesa. Ma è una grossa opportunità per le imprese di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni quindi micro, piccole e medie imprese della provincia di Verona appartenenti all'agricoltura, al commercio, ai servizi, all'artigianato e all'industria. Le opportunità sono avere un contributo del 50% su spese di formazione e consulenza in campo di digitalizzazione fino ad un massimo del 50% fino ad un massimo quindi di 10.000 euro di contributi. Ci sono fondi ancora disponibili, conta l'ordine di presentazione della domanda quindi chi prima arriva meglio alloggia, il bando chiude il 16 ottobre ma se si fa domanda già a settembre si è sicuro insomma di arrivare all'obiettivo. È il secondo anno che la Camera di Commercio offre questa possibilità. La domanda va compilata online sul link dedicato nel sito della Camera di Commercio di Verona e deve pervenire entro il 16 ottobre. Le prime richieste arrivate godranno di priorità. Perché è importante mettersi in quest'ottica? Magari c'è un'impresa che funziona e dice io non ne ho bisogno. Ma in realtà perché la concorrenza internazionale ma non solo si sta già attrezzando è perché tutti i servizi che le imprese di ogni settore dovranno dare sono fondamentalmente legate alla digitalizzazione. Si sbaglia a pensare che questo riguardi solo il settore industriale, riguarda tutti gli altri settori, quindi quando parliamo di manifattura addittiva, di blockchain, di intelligenza artificiale eccetera, riguardano comunque di realtà aumentata, di realtà virtuale, mettiamoci quello che vogliamo, riguarda tutti i settori produttivi. Quindi le imprese per fronteggiare la concorrenza e per restare sul mercato devono adeguarsi e devono adeguarsi in tempi brevi. Per cui consigliamo di sfruttare questa opportunità. Impresa 4.0 in definitiva cosa significa? Significa rendere i processi produttivi interni alla propria struttura più attuali e più efficienti rispetto alle condizioni di mercato attuali.